Guardiamo come funzionava il motore elettrico, abbiamo detto che la corrente è la causa, infatti la corrente va ad alimentare queste bobine e l'effetto sarà la rotazione. Infatti vediamo che quando alziamo la corrente il motore inizia a ruotare. Se noi aumentiamo il flusso di corrente il motore ruota più velocemente. Naturalmente se noi invertiamo la corrente elettrica, intanto se togliamo la corrente non gira più, se noi invertiamo la corrente gira nel verso contrario.